Benedetta, qual è il tuo personaggio di talento preferito? Si è laureata in ingegneria aerospaziale all'Università Tecnica di Monaco di Baviera in Germania. Nel 2001 è ammessa all'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e se ne esce con la laurea in Scienze Aeronautiche presso l'Università Federico II. Successivamente si è specializzata negli Stati Uniti. A maggio 2009 è selezionata come astronauta dall'Agenzia Spaziale Europea risultando tra i 6 milioni di una selezione a cui avevano preso parte 8.500 candidati. L'11 giugno 2015, dopo 199 giorni, è avvenuto il rientro sulla Terra in Kazakhstan alle ore 15.44 italiane. Durante questa missione ha conseguito il record europeo e femminile in un singolo volo. Nel settembre 2015 è stata nominata ambasciatrice UNICEF durante un evento organizzato dall'Aeronautica Militare. Brava Samantha, sei un esempio per tutti noi. Grazie.